I militari del nucleo operativo radiomobile di Ragusa nella serata di ieri hanno svolto un mirato servizio antidroga nel centro della città, in particolare in piazza San Giovanni, luogo di movida giovanile e di aggregazione. Nell'ultimo periodo i carabinieri infatti avevano riscontrato una folta presenza di soggetti noti quali assuntori di stupefacenti e di altri giovani, conosciuti perché gravati invece da precedenti dispaccio di droga, a girarsi per ore nel sagrato della cattedrale. Dopo un'attenta osservazione della piazza, i militari mimetizzati tra la folla hanno assistito ad uno scambio droga-denaro e hanno subito bloccato venditore e acquirente, il primo ancora con i soldi in mano e il secondo con un involico contenente dello stupefacente di tipo hashish. I due giovani sono stati condotti negli uffici del comando provinciale in piazza Gaduti di Nassiria. Qui, dopo le formalità di rito, l'acquirente è stato segnalato al prefetto di Ragusa per assunzione di stupefacenti, mentre lo spacciatore è stato dichiarato in stato di arresto. Si tratta di un tunisino, Waz Wael, di 30 anni, con precedenti specifici, che su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Andrea Sodani, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e di un 33enne ragusano segnalato al prefetto quale assuntore.